A volte basta un semplice numero per cambiare tutto ciò che valeva in precedenza. Un piccolo numero con cui noi ridefiniamo il futuro. E siamo i primi in Svizzera. Un gigabit al secondo sulla rete di telefonia mobile. La miglior rete della Svizzera raddoppia la velocità. Svizzera raddoppia la velocità.